corona angelica o dio vieni a salvarmi signore vieni presto in mio aiuto gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli amen per intercessione di san michele arcangelo e del celeste coro dei serafini ci renda il signore degni della fiamma di perfetta carità padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen san michele arcangelo difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio per intercessione di san michele arcangelo e del coro celeste dei cherubini voglia il signore darci la grazia di abbandonare la via del peccato e correre in quella della cristiana perfezione padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen san michele arcangelo difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio per intercessione di san michele arcangelo e del sacro coro dei troni infonda il signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen san michele arcangelo difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio per intercessione di san michele arcangelo e del coro celeste delle dominazioni ci dia grazia il signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen san michele arcangelo difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio per intercessione di san michele arcangelo e del coro celeste delle potestà il signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen san michele arcangelo difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio per intercessione di san michele arcangelo e del coro delle ammirabili virtù celesti non permetta il signore che cadiamo nelle tentazioni ma ci liberi dal male padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio. Per intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste dei Principati, riempia Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio. Per intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste degli Arcangeli, ci conceda il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio. Per intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste di tutti gli angeli, si degni, il Signore, concederci di essere da essi custoditi nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta per essere salvati nell'estremo giudizio. Concludiamo con la recita di quattro Padre Nostro, il primo in onore di San Michele Arcangelo. Padre Nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il secondo, in onore di San Gabriele Arcangelo. Padre Nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il terzo, in onore di San Raffaele Arcangelo. Padre Nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il quarto, in onore dell'Angelo Custode. Padre Nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiera di Leone XIII a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che con prodigio di bontà e misericordia per la salvezza degli uomini hai eletto a principe della tua chiesa il glorioso San Michele. Concedici, mediante la sua benefica protezione, di essere liberi da tutti i nostri spirituali nemici. Nell'ora della nostra morte non ci molesti l'antico avversario, ma sia il tuo Arcangelo Michele a condurci alla presenza della tua divina maestà. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.